ciao bambini oggi voglio presentarvi una persona molto speciale e questa persona vuole essere il vostro migliore amico il suo nome è gesù gesù ama i bambini e sapete cosa ha detto ha detto lasciate che i bambini vengano a me perché di loro è il regno di dio che cosa fantastica i bambini sono molto molto importanti per gesù e adesso conosciamolo di più gesù ti vuole tanto bene lui ti conosce da sempre anche quando eri nella pancia della mamma ha visto i tuoi primi passi il tuo primo giorno di scuola la caduta del tuo primo dentino e quello che desidera di più è diventare il tuo migliore amico ma cos'è un migliore amico è una persona che ti vuole bene a cui piace stare insieme a te che ti ascolta e ti aiuta se hai bisogno che è triste se tu sei triste è felice se sei felice una persona che ci sarà sempre per te e gesù oltre a fare tutto questo ha dato anche la sua vita per te gesù conosce il tuo cuore vuole darti tanto amore e tutto ciò di cui hai bisogno vuole proteggerti e vuole che tu sia sempre felice ti stai chiedendo come fare a diventare il migliore amico o la migliore amica di gesù è semplice basta che tu glielo dica con le tue parole e lui ti ascolterà ciao 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 ciao